A steggi il popolo di Dio che venne dal Santo Altare, guida i discepoli di Cristo, Maestro e Signore, nel cammino della verità e della vita, dal fonte vatoesimale alla messa del sacrificio eucalistico. Interceda per te e per tutti i sanbiati, patroni di questa comunità allontana. Grazie a tutti.